facebook è un fenomeno del quale oggi non si può fare assolutamente a meno di parlare sono anch'io scritto in facebook, inizialmente ho evitato di scrivermi per una sorta di mia personale diffidenza invece adesso sono uno dei tantissimi utenti entro nella mia pagina, mi piace tantissimo osservare i vari post dei tanti utenti col tempo, osservandoli, guardandoli, sono arrivato a una conclusione che facebook è veramente la nostra ancora di salvezza in una società dominata dal puro utilitarismo, dal materialismo in facebook in qualche modo ci concediamo, ci permettiamo e ci concediamo di liberare quell'intrinseca poesia che probabilmente ancora domina nel nostro intimo può apparire a quanto insignificante questo discorso ma io penso che l'utente di facebook in realtà sia dominato nel momento in cui si appresta a scrivere qualcosa in facebook da una lacerante tensione, la lacerazione del poeta sa che scriverà qualcosa che per quanto stupida avrà un pubblico potenzialmente illimitato nel senso che se io scrivo vado a cagare in facebook la mia affermazione comunque ha... sono consapevole che comunque per quanto stupida e insignificante per quanto possa non interessare a nessuno avrà comunque un seguito un seguito quanto tutte le altre cose che io dico durante il giorno non hanno e questo in qualche modo il potere sì del web ma che in facebook trova un'espressione massima ed assoluta io credo ed è interessante allora osservare come tantissimi utenti lacerati seppur inconsapevolmente da questa intrinseca tensione cosa fanno? è come se siano tutti mossi da un primordiale ed incredibile rivolgimento alla lirica, alla poesia magari non hanno mai aperto un libro di poesie ma a questo punto si rivolgono alla madre poesia in qualche modo e diventano, scoperchiano il loro intimo e diventano in qualche modo poeti osservo i vari post ed è inevitabile veramente osservare innanzitutto le tematiche il sentimento è uno degli argomenti che va per la maggiore che spopola tra i vari post di facebook l'amore, l'odio, la rabbia il sentimento è una tematica fortissima fortissima in facebook poi l'immediatezza, l'immediatezza deve essere espresso in pochissimo tempo anche questo espediente non può non riportarci comunque sia alla lirica e poi ci sono dei tentativi davvero incredibili di esprimere in qualche modo quasi come se ce l'avessimo dentro se gli utenti di facebook avessero intrinsecamente la concezione delle metafore delle allegorie che in qualche modo saltano fuori in qualche modo sfavillano tra i vari post di facebook i vari post sono tanti versi, inutile negarlo sono una montagna, un'enormità di versi estremamente banali estremamente antipoetici estremamente anche ridicoli, tremendi, terribili ma sono versi e così noi in facebook ci accorgiamo in qualche modo che seppur conquistati apparentemente da una società assolutamente materialista da una società assolutamente utilitarista abbiamo ancora un'intima poesia che facebook ci dà la possibilità di sfogare questo io osservo osservo in maniera incredibile in facebook e vabbè per rendere un po' più concreto il tutto io sono andato a spulciare proprio per dire un paio di cose a spulciare tra i post di alcuni miei amici e ho trovato qualcosa di simpatico giusto per dare una citazione per evidenziare come questa sorta di sintomatico misterio come questa ricerca di musicalità che io ho evidenziato esiste veramente veramente effettiva nei vari post di facebook ne cito soltanto un paio per esempio resta come per sempre sei la mia favola e lo sarei per sempre oppure da lassù so che continui ad accompagnarmi dandomi la mano ciao nonna secondo me sono abbastanza emblematici emblematici di loro i versi e non dimentichiamo che poi la frequenza invece di vere e proprie citazioni tra i post è veramente elevatissima spesso osserviamo tra i post citazioni di versi di veri e propri poeti quasi a dimostrare che c'è necessità di esprimere poesia dove la poesia non non ci sovviene dove veramente non riusciamo neanche ad esprimere quando veramente non riusciamo ad esprimere anche il più terribile dei versi quando abbiamo un intimo veramente svuotato e quando l'utilitarismo ormai vinto su di noi comunque rimane quella scintilla che ci porta quantomeno a se non a produrre di nostro a trarre da chi il poeta l'ha fatto veramente per mestiere insomma facebook è un po' il canzoniere per i poveri di poesia comunque dobbiamo essere contenti perché siamo una generazione di poeti siamo ancora una generazione di poeti e dobbiamo riconoscere questo e lo riconosciamo e dobbiamo riconoscere ogni volta che guardiamo i vari post di facebook siamo ancora una generazione di terribili scandalosi poeti ma comunque poeti e questo mi rende enormemente soddisfatto e felice ora per concludere cito ancora un paio ricito i versi i post che ho indicato prima magari ne cito anche un altro paio verso numero uno sei la mia favola e lo sarai per sempre verso numero due sei la favola bella che ieri ti illuse che oggi mi illude verso numero due verso numero tre scusate da lassù so che continui ad accompagnarmi dandomi la mano verso numero quattro ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale che qualcuno per piacere mi dica quali sono versi quali non lo sono dove c'è la poesia e dove non c'è